Il numero delle persone operative nelle Corpo Volontari Prisolana negli anni è andato crescendo, ma voi proponete comunque occasioni con le quali le persone possono avvicinarsi a questa bella realtà. Effettivamente diciamo che nell'arco degli anni abbiamo sempre avuto favore per quanto riguarda il numero dei volontari. Credo però che questo ultimo anno, in virtù anche delle recenti vicissitudini legate al Covid, ci abbia dimostrato come la presenza del volontariato sul territorio possa effettivamente fare la differenza nel servizio erogato alle persone. Quindi come ogni due anni indicativamente siamo pronti a presentare il nostro nuovo corso per soccorritori. Come siete organizzati? Allora il corso ovviamente è il classico corso strutturato direttamente da Reolombardia, è un corso definito di 120 ore, quindi sul soccorso sanitario extra ospedaliero, formulato su due moduli principali. Un primo modulo dedicato prevalentemente a chi sarà interessato ai servizi sanitari cosiddetti, quindi trasporto sanitari da e per strutture ospedaliere, accompagnamenti, e poi un secondo modulo delle 78 ore che identifica correttamente il soccorritore esecutore certificato. La pandemia ha reso più complicata l'attività dei volontari, tuttavia vi sono procedure che vi consentono di operare più tranquillamente. Dal punto di vista del rispetto delle regole Covid, ovviamente anche noi ci adeguiamo a questioni di PCM nazionali. Ovviamente a Reolombardia, al canto suo, ci dà indicazioni molto più specifiche e dettagliate per la gestione della formazione. Attualmente abbiamo deciso di realizzare una prima serata di presentazione, che sarà giovedì 11 alle ore 20.30 presso la nostra sede, nella quale daremo un'infarinatura sul programma, ovviamente rispettando tutti quelli che saranno i canoni e le regole per cercare di sottostare alle regole Covid. Successivamente, una volta valutata la presenza delle persone e le modalità, avremo alcune facoltà di formazione differenti, quindi utilizzeremo sicuramente per le lezioni, non necessariamente in presenza della didattica a distanza, su piattaforme predisposte e gestiremo invece delle lezioni di parti pratiche, ovviamente rispettando tutti i criteri stabiliti con dispositivi di protezione individale e quant'altro serva per poterli svolgere in sicurezza. Ricordiamo le coordinate del corso. Il corso si svolgerà, salvo le diverse indicazioni, il lunedì e il giovedì sera alle 20.30 presso il Palazzetto dei Convegni in Piazza Donizzetti a Castiglione della Presolana, Bratto. Colgo l'occasione comunque per ricordare che, oltre all'aspetto legato ai corsi inerenti alla parte sanitaria, ovviamente il Corpo Volontari svolge una molteplicità di altre funzioni all'interno della comunità. C'è posto ovviamente per tutti, ci sono tanti incarichi che si possono ricoprire, abbiamo bisogno di centralini, di persone che ci possono aiutare nella gestione della sede, dei materiali, delle nostre attrezzature, quindi vi aspettiamo numerosi.